Con l'inaugurazione il 3 settembre partono in città gli europei di pattinaggio, 19 nazioni presenti, oltre 400 atleti, questo per la prima volta in città. Gli europei sono inseriti peraltro nell'Aquila Città Europea dello Sport come evento. La messa a disposizione dell'aeroporto dei parchi ha reso possibile la manifestazione che per la prima volta si svolgerà in tre location, la pista di Santa Barbara, l'aeroporto di Preturo e Viale Corrado IV. Il 4, 5 e 6 settembre sono previste le gare su pista, 8 e 9 su strada e l'aeroporto, l'11 settembre sul circuito cittadino di Viale Corrado IV. Gli europei avrebbero dovuto coinvolgere anche sul Mone Avezzano, ma così non è stato e non senza rammarico. L'organizzazione è curata dal centro polisportivo giovanile di Mario Miconi nella conferenza di presentazione, oltre a Miconi, Roberto Marotta, ex campione mondiale di pattinaggio e presidente della federazione UASKATE, l'assessore comunale dello Sport Vito Colonna, quello regionale Guido Liris, perché la regione ha contribuito economicamente, e il professor Francesco Bizzarri del comitato L'Aquila Città Europea dello Sport. Quasi tutte le rappresentative nazionali sono arrivate in città. Molti cittadini dell'Aquila hanno potuto vedere questi ragazzi camminare lungo via Le Corrado IV perché sono quasi tutti alloggiati negli alberghi limitrofi la pista. Atleti e tecnici sono già in città. Si tratta di un evento che porterà alla città dell'Aquila un indotto considerevole. L'indotto devo dire che sarà elevato perché mentre per gli internazionali d'Italia dove vengono gli atleti, come ce ne sono stati a luglio circa 520, però erano squadre individuali che partecipavano praticamente esclusivamente a dei test per le prossime competizioni, una delle quali sono i campionati europei e poi i mondiali. In questo caso, data la risonanza del campionato europeo, tutti gli atleti minimo saranno seguiti da tutta la famiglia, quindi potete immaginare che indotto ci può essere. Infatti, se cercate una stanza di albergo non troverete nulla all'Aquila. E quindi sono coinvolti i ristoranti, i fast food, le linee di bus, chi noleggia le auto, quindi abbiamo un grosso indotto che ricade tutto sulla città dell'Aquila.